Buongiorno a tutti, oggi è martedì 5 maggio e parliamo di analisi ciclica e voluta su DAX e su Tutsnib. Per quanto riguarda il future, abbiamo che su DAX siamo a più 146 punti e sull'italiano siamo a 120. C'è stata una buona solita durante la notte, però dobbiamo vedere come al solito che cosa succederà a partire dalle 9.01. Per quanto riguarda appunto il nostro indice tedesco, abbiamo che va controllato il fatto che l'ottavo T-3 sia partito da qui e eventualmente si sia concluso qui a 36 barre, perché nel caso il nono T-3 sarebbe vincolato a ribasso. Mentre invece fosse partito da qui, con meno tempo per un T-5 rialzo e una discesa più rapida, per cui ho optato per questa opzione, avrebbe effettivamente potuto già chiudersi a 41 barre qui e non ci sarebbe alcun vincolo sul T-3 che sarebbe in partenza da questo minimo. Questa è la cosa fondamentale da stabilire per oggi. Per quanto riguarda i target per la salita, se appunto avremmo 147 punti confermati, dovremmo arrivare orientativamente a 616 in questa zona qua, aspettate, 616, 618, ovvero vicini alla media mobile a 50 periodi che è andata in death cross e anche al livello inferiore della Q. Facciamo un controllo sull'inverso. La centratura ci dice che l'inverso può essere tranquillamente chiuso qua a 23 barre e da qui si può essere scesi con una chiusura qua a 41 barre. Altro motivo per cui bisognerà fare attenzione se ci sarà una violazione di questo swing a 10.552 punti. Viceversa, anche in questo caso, se andassimo a prendere una centratura alternativa, dovremmo andare a prendere questa, 32 barre, con partenza dell'inverso invece da questo massimo qua e quindi saremmo arrivati per ora solo a 36 barre e potrebbe esserci una chiusura di T-2 inverso, ciclo a due giorni inverso, che poi farbbe partire una successiva discesa. Per cui in tutti i due casi sappiamo che farà la cosa importante sarà capire l'impatto che i prezzi avranno sulla media mobile a 50 periodi e sul livello inferiore dell'acumo. Passiamo al Fuzzimib. Su Fuzzimib la situazione è differente. Questo minimo è stato fatto a 17.085 e questo è stato fatto a 17.074. Oltretutto, essendo l'ottavo T-3 partito alle 9.30 della mattina, ha fatto 32 barre e quindi può tranquillamente essersi chiuso qui l'ottavo T-3 insieme al settimanale partito da questo minimo il 21 aprile. Dato che l'apertura dovrebbe essere attorno ai 17.209, ma sta arrivando un HFT ribassista, ok, 216, saremmo comunque qui. Non avremmo violato questo swing a 17.265, quindi la situazione sarebbe più fluida. Qui sembra anche più semplice leggere l'inverso. Anche qui c'è la possibilità di andare a 32 invece che fermarsi prima e successivamente questa può essere stata la chiusura, ma verificheremo presto durante la mattinata. In base a quello decideremo appunto come muoverci. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata. Vi ringrazio per l'ascolto e vi ringrazio per l'ascolto.